Ciao a tutti ragazzi. Allora, l'estate è una sofferenza per noi che pratichiamo il surf, è una sofferenza. Le perturbazioni sono poche, quelle poche che ci sono sono tutte attutite, attutite dall'anticiclone delle azzorre, attutite dall'anticiclone africano, da tutte le varie alte pressioni che sono disseminate qua e là nel mediterraneo. Quindi il maestrale arriva poi viene spostato dall'alta pressione. Purtroppo l'estate è un po' per giocare, per dedicarci appunto a dei tipi di pesca diversi, che sono la pesca de mormor, la pesca d'aurata, la pesca a serra e perché no? Anche la pesca ai grossi predatori che d'estate sono presenti. Magari non tanto dalla spiaggia, dalla spiaggia è più difficile però, dalle strutture in cemento armato, che possono essere moli, che possono essere... sono tecniche di pesca che vengono effettuate regolarmente. e sono anche divertenti. A me magari non piacciono, però sono comunque divertenti. L'estate è bello dalle rocce, l'estate è bello, però quando noi andiamo a vedere le perturbazioni poi ci rendiamo conto che a parte c'è un fenomeno stranissimo che è l'allattitanza del maestrale quest'anno. Sta facendo maestralate leggere, brevi e molto diradate. Quest'anno c'è una presenza dell'anticiclone africano che è violentissima, ormai è già 10-15 giorni che sta insistendo nel Mediterraneo. Contrariamente alla presenza solita dell'anticiclone delle azzorre, che è meno caldo, è più stabile, permette l'ingresso delle perturbazioni delle atlantiche. Invece l'anticiclone delle azzorre è proprio un tappo. Tanto è vero che... Vediamo un pochettino se ci riusciamo... Allora... Questa è il classico esempio attuale. C'è un tentativo di maestrale, vedete? Però è deviato. C'è un'alta pressione qui, c'è un'alta pressione al centro della Sardegna, c'è un'alta pressione sulle Baleari. Domani, per esempio... Pietro Acerbi. Adesso... Domenica, lunedì. Guardate, doveva esserci l'ingresso di una maestralata. Vedete che c'è un tentativo di ingresso martedì. Allora, in condizioni invernali, questa sarebbe una maestralata tutto sommato anche abbastanza forte. Invece, guardate d'estate cosa succede. Qui c'è un'alta pressione, guardate. Vedete che ruota in senso orario? Ce n'è una qui. Poi ce n'è una sulla Corsica, tra la Sardegna e la Corsica. Poi c'è tutto un canale qui di alte pressioni. Per cui il maestrale entra e viene deviato qui verso nord, qui verso sud, poi verso sud-ovest. Per cui, niente, le perturbazioni non riescono ad entrare. E questo è dovuto proprio alla presenza sia dell'anticiclone delle Azzorra che dell'anticiclone africano, che si stabiliscono nel Mediterraneo e impediscono... Non riescono, non riesce a sfondare. Guardate quest'altra condizione, vedete. Il maestrale entra, poi c'è qui un'alta pressione, all'altezza delle Baleari, che sposta proprio. Guardate, qui ce n'è un'altra, qui c'è un'altra alta pressione ancora. Vedete come viene spostato proprio la perturbazione che viene da maestrale. Arriva completamente attutita, guardate qui. L'unico punto è le bocche di Bonifacio, ma questa è una cosa normale, che fungono da amplificatore. Però vedete come viene spostata proprio la perturbazione. Qui non arriva più da maestrale, arriva da nord proprio. Guardate, è un nord-ovest... Non è pulita la perturbazione, arriva vicino alla costa e trova, vedete, tutte queste piccole zone di alta pressione, di pressioni diverse, che proprio la spingono e spostano la perturbazione originale. Quindi arriva il mare, perché il mare è a terra, arriva. Cioè noi le onde qui arrivano, però arriva tutto attutito. Per cui la scaduta dura pochissimo, le onde non sono mai energiche, perché sono sempre spostate da queste alte pressioni. E tutto quello che poteva essere un fermento interessante per la pesca, anche d'estate, con un po' di frangenti, con un po' di farci benedire. Purtroppo l'estate è fatta così e quindi ci dobbiamo dedicare ad altro. Guardate. Allora, le cose, io quando le dico sempre noi d'estate giochiamo, perché vedete qua, qua c'è il poetto, no, Cagliari. Arriva il maestrale, abbastanza leggero, però sono dei fenomeni, qua c'è Giorgino, vedete, le spiagge che noi diciamo sono praticamente le due spiagge di Cagliari, una a est e una a ovest di Cagliari. E sono delle spiagge, si trovano tutte e due al centro del golfo e funzionano benissimo con il vento di spalle, con il maestrale, soprattutto con il secondo giorno di maestrale forte. Però quest'anno soprattutto si sta verificando un fenomeno dove c'è questa prevalenza dell'anticiclone africano che non permette alle perturbazioni di entrare. Quindi anche il maestrale è leggero, è leggero, guardate, vedete, arriva il maestrale, guardate qui tutta questa giostra di correnti, lo vedete? Guardate come spostano il maestrale, proprio lo spostano. E questo è dappertutto così, guardate, qui c'è, qui sparito, qui tutto indebolito da queste zone di alta pressione, guardate. Guardate, micidiale, guardate, qui c'è, qui no. Pazzesco, guardate, guardate, proprio ci sono delle zone dove la perturbazione viene deviata, altre zone dove invece riesce a incanalarsi. Sono situazioni proprio tipiche estive, quest'anno poi in modo particolare si stanno verificando questi fenomeni a causa non tanto dell'anticiclone africano. Ci sono tanti buchi di alta pressione, di pressioni diverse, che deviano la perturbazione, impediscono l'ingresso delle perturbazioni nel Mediterraneo. E purtroppo ci si arrangia un po' diversamente, una perturbazione già come questa, in un periodo invernale. Qua avremmo visto delle strisce di vento pazzesche. Allora, dove siamo? Grafiche di vento, guardate. Qui avremmo avuto già delle strisce di vento incredibili, cosa che invece non sta succedendo. Vedete. Non riesce ad entrare la perturbazione, guardate come si bloccano. Guardate, qua entra, poi viene deviata, subito. E qui c'è un buco di alta pressione. Difficile come lettura, eh. Il maestrale cerca di entrare e viene deviato. Pazzesco. Se voi, se noi mettiamo l'animazione, vedete. Il maestrale entra e viene spostato da questa alta pressione, guardate. Viene spostato, poi si riavvicina, ma ormai è a tuttito. E sta facendo tutta l'estate, finora così. Non ha fatto ancora una maestrale, grazie a Dio. Io qua ci sono una settimana, però mi sembra che non so. C'è un po' di venticello, ma tutte rotazioni, non ci sono i presupposti per creare un moto ondoso. Vedete, stessa storia. Guardate, qua c'è un'alta pressione pazzesca, vedete. Guardate, il vento viene deviato. Vedete. Ci sono tutte queste zone di alta pressione che sono spaziali. Allora, che diverto? Così vediamo meglio. Guardate. Vedete queste zone di alta pressione, guardate. Cioè, già è difficile d'inverno scegliere gli spot. In queste condizioni è un'impresa. Guardate questo buco di alta pressione, guardate. Guardate. E le perturbazioni vengono deviate. Guardate questa maestrale. Entra forte. Questa è domenica. Entra forte. Poi però c'è questo buco qui che la prende e la sposta. Guardate. Guardate come la sposta. Quest'alta pressione forma un tappo proprio. La prende e la sposta. Ciao. Poi arriva un po' di vento, ma a terra però. Guardate. Vedete quest'alta pressione. Guardate. Quindi d'estate, ragazzi. D'estate si gioca. D'estate si gioca. È difficilissimo affrontare una perturbazione vera, insomma. Guardate. Vedete anche qua c'è un altro ingresso di maestrale. Però poi ci sono tutta una serie di buchi di alta pressione che la spostano. Guardate. Ci prova, eh? Guardate. Questo è maestrale vero, eh? Maestrale è forte, eh? Si parla di 50 nodi, 50 nodi. Però poi, guarda. Fermo. Tutto fermo. Guardate. Non ci arriva. Guardate. Qua ci sono 50 nodi di vento, eh? Qui invece è 17 nodi. Però questa perturbazione d'inverno avrebbe prodotto 20 da 50 nodi, eh? 100 km orari. Invece d'estate, bloccata. Trova il muro dell'anticiclono, sia dell'Azorica e dell'Africano. Guardate. Non le permette di entrare. Mediterraneo è bloccato. Quindi, riuscire a progettare una battuta di Sartre d'estate, che però non se ne parla. Molti di noi, quando arrivava giugno, appendevano le canne al chiodo fino a ottobre. Ma perché? Per queste situazioni. Perché vivendo il nostro surf da una situazione creata da perturbazioni, da basse pressioni, il surf vive di queste cose. L'estate, intanto vengono a mancare tutti i presupposti. Se qualche mareggiata arriva, vedrete che dura poco. Per quanto sia forte il vento, ha sempre una durata molto limitata. e poi la velocità del vento lascerebbe presupporre una forza del mare molto superiore. Invece vedete che d'estate, magari c'è un vento a 100 km orari, che in condizioni invernali avrebbe creato una mareggiata a forza 8. Invece da noi d'estate, un vento a 100 km orari, magari ti crea una mareggiata a forza 5-6. Se va bene. Questo è dovuto a tutta questa serie di blocchi sul Mediterraneo che sono dati dai vari anticicloni che poi garantiscono l'estate, perché sono queste le condizioni che garantiscono bel tempo sul Mediterraneo. Quindi col surf siamo fritti. Non c'è storia. Quello che possiamo fare, invece, è un gioco fantastico. Qualcuno di noi ci sta anche provando. Un gioco ai grossi predatori, insomma, che d'estate complice anche la temperatura dell'acqua, perché non dimentichiamoci che i grossi predatori si mettono in moto quando la temperatura dell'acqua cresce su correnti caldi oppure quando aumenta la temperatura dell'acqua. Per esempio, parliamo di tonni, parliamo di squali, di ricciordi, sono tutte presenti quando la temperatura dell'acqua è alta. Attorno ai 25-26 gradi loro si trovano a loro agio, si avvicinano a terra. E sono anche facili da insidiare. Ci sono dei posti dove si avvicinano a terra abbastanza facilmente. Una cosa importante è che quando viene intercettato un passaggio di questo tipo di prede, queste prede passeranno sempre in quella zona. Perché se, per esempio, capita, ci sono delle zone in Sardegna, per esempio le verdesche. A Costa Rei, già 40 anni fa, io mi ricordo, noi qualche pomeriggio le vedevamo a 20 metri d'arriva che notavano. Beh, a Costa Rei, Calassinzias, tutti gli anni si vedono le verdesche vicino a riva. Cioè, quindi, c'è qualcosa nella loro rotta di Pasquano che le porta in quella zona sempre negli stessi posti. questo vale per le verdesche, vale per i tonni, vale per le tucciole, vale un po' per tutte le prede, compreso quello che noi facciamo d'inverno. Solo che d'inverno, avendo a che fare con le mareggiate, diciamo che molti pesci si staccano dalle secche e raggiungono le spiagge. Quindi è un fenomeno più affidabile. Però d'estate, tutti questi grossi predatori, una volta che noi li vediamo una volta, poi li vediamo sempre. C'è un'altra zona, Calacartoi si chiama, è una zona di Dorgali, dove la mattina presto, il mare è piatto, piatto proprio, si vedono a 500 metri d'arriva i passaggi dei delfini, dei capodogli, delle palenottere, ma tutti gli anni si vedono. Cioè, è un fenomeno in quella spiaggetta, a 500 metri d'arriva passano tutti gli anni. Non è un qualcosa di casuale, ma è proprio una rotta che seguono. D'estate chiaramente queste cose le vediamo meglio, le apprezziamo meglio. Però, per quanto concerne i grossi predatori, probabilmente noi in Italia quel tipo di pesco possiamo anche provare a pescare. perché no? E se capita una volta, poi è un fenomeno appostante, dobbiamo tenerne conto di questo. Cioè, non è un qualcosa di casuale. Se in quella zona vengono avvistati degli squali, vuol dire che in quella zona c'è qualcosa, una rotta, una particolare corrente marina, una migrazione, che so, di pesci esca, di pesci foraggio, che li fa avvicinare in quel tratto di costa, che non è tutta la costa, è solo in quel tratto. Tant'è vero che nella costa est, in Sardegna, a Costa Rica, a Sincias, spessissimo avvengono avvistamenti di grosse razze, di verdesche, capitano tutti gli anni. Sempre lì. Sempre lì. Ora, è chiaro che se ci dedichiamo a questo tipo di pesca, non è che possiamo andare a fare molto, insomma, è un tipo di pesca molto sportivo, complesso, dove serve un'attrezzatura di un certo tipo, dove, un pesce che ti arriva, un pesce che già pesa 60-70 kg, è una preda importante, che serve un'attrezzatura di un certo tipo, e soprattutto serve esca. L'esca, a meno che non sei su un fondale molto, che però in Sardegna da noi c'è giusto qualche spiaggia, devi portarla fuori, l'esca. Comunque devi portarla fuori, o con il canottino, o con un cajaco, o con... però l'esca l'ha portata fuori. Per insediare pesci dai generi sull'esca. Però, io per esempio, sono sempre stato convinto che abbiamo delle zone, in Sardegna, dove si può fare non solo, ci sono anche delle zone in Italia dove si può fare questo, nella penisola, ci sono sicuramente delle zone in Sicilia, vedi lo stretto, è una di queste, per esempio. Ci sono delle zone in Calabria dove si possono fare, ci sono anche delle zone in Puglia dove si possono fare. Quindi ci sono delle zone attorno alla penisola dove questo tipo di pesca può dare ottimi risultati. Bisogna avere attrezzature grosse perché se ti arriva un pesce importante in canna, uno squalotte, non te ne fai niente. Cosa fai? Lo tieni? No? Lo liberi? No? Però per liberarlo devi anche stare attento a creare il minor danno possibile perché tu non puoi tenere uno squalo tre ore in un combattimento. Dove essere un combattimento di venti minuti. Quindi quello arriva a terra, vive e vege, togli, togli il lab, questo parte. Ma se tu non utilizzi attrezzature adeguate, ti gestisci un combattimento in un'ora, un'ora e mezza, poi alla fine con lo squalo non salvi più. Quindi una raccomandazione a una che decide di fare questo tipo di pesca è di farlo con attrezzature adeguate. Cioè, devi poter tirare, devi poter salparlo nel più breve tempo possibile. E ci vuole attrezzatura perché se questo combattimento dura troppo, poi il pesce lo ammazzi durante il combattimento, invece devi essere certo di portarlo a riva a riva e a riva che è quello che fanno in America. Fanno questo tipo di pesce con attrezzature molto pesanti, combattimento dura 20 minuti, con un martello di 200-300 kg dura mezz'ora. Cioè, bisogna essere molto attenti a queste cose perché un pesce del genere cosa te ne fai. Se anche ti arriva, ancora ancora una ricciola, ma io per esempio questi pesci li rilascirei tutti, non me ne porto a spasso, non li tolgo ma fuori dall'acqua, li faccio una foto in acqua, poi li tolgo l'acqua e li lascio. Questo è il significato nel fare questo tipo di pesca. Sono i posti dove si può fare e sicuramente qualche risultato si ottiene, però ci vuole un'attrezzatura adeguata, esca adeguata, bisogna portarle fuori, non al lancio perché con il lancio non puoi lanciare mezzo chilo di esca così, soprattutto a una distanza sufficiente. Potrebbe essere un tipo di pesca che d'estate ci porta a provare l'evrezza di quelle catture che sono tipiche dell'oceano più che dei nostri mari. Però anche nei nostri mari ci sono, noi abbiamo esperienza di gente che ha sempre catturato questo tipo di pesci nella zona di Oristano, hanno sempre catturato Berdesca, hanno catturato Ottonio, hanno catturato Ricciolo, hanno catturato Lecce, ma parliamo tutti di pesci oltre 30 kg insomma. E secondo me queste cose si possono fare un po' dappertutto. Bisogna stare attenti e trovare quei posti dove queste previ si avvicinano a riva. Perché una volta che sappiamo che si avvicinano lì siamo certi che comunque non è un fenomeno casuale. È un fenomeno costante. Ed è un tipo di pesca molto divertente insomma. A patto che venga fatto con le attrezzature giuste. Questo per garantire anche che rilascio del pesce in salute insomma. Perché con attrezzature molto sportive il combattimento si prolunga troppo e o perdiamo il pesce o lo ammazziamo. Per cui è inutile insomma fare quel tipo di ragionamento. Bisogna farlo con un'attrezzatura sovradimensionale dove il pesce lo toglie fuori nel più breve tempo possibile, lo rimette in acqua, l'ossigeno e quello parte. Ed è un tipo di pesca molto sportivo, molto divertente per chi ama i combattimenti impegnativi io sono sempre stato uno di quelli sono emozioni veramente importanti. Nel massimo rispetto chiaramente sempre delle prede insomma. Perché poi se anche catturiamo una verdesca non ce ne facciamo niente e sarebbe sciocco privare ammazzare un pesce di quel tipo per che cosa? Per farlo vedere in giro. È molto meglio fare due foto con la core in acqua poi rilasciarlo e farlo andare via e restituirlo al mare. Insomma d'altronde ci ha regalato un bel combattimento un'emozione incredibile ce la ricorderemo per tutta la vita e già questo basta avanzare e ringraziarlo insomma e lasciarli restituire le libertà. Quindi d'estate vengono a mancare le perturbazioni l'estate diventa tutto più più difficile per quello che è la nostra passione insomma per noi che siamo amati del cerco e allora svuotiamola a me piacerebbe che qualcuno di voi facesse questi tentativi soprattutto se sapete le zone dove queste prese si avvicinano a terra probabilmente quest'estate lo faremo anche qui in Sabina qualcosa la faremo abbiamo un'idea di dove si avvicinano lo sappiamo quindi recuperiamo un po' di attrezzature adeguate e cercheremo di fare qualche uscita e se poi arrivano questi pesci sono divertenti sono combattimenti impegnativi sono sempre nel massimo rispetto però perché stiamo andando a catturare pesci che non è che andiamo a cucinare nel forno non so ce ne facciamo noi dobbiamo rilasciare quindi tutto nel massimo rispetto della natura e di questo tipo di pesci e se ce ne arriva uno e ci dà quell'emozione deve ridare la libertà non non ha senso fare diversamente voi ci avete mai provato a voi ragazzi Enzo Amato per esempio in Sicilia questi pesci si girano parecchio come hai detto poco fa nello stretto non è non è raro vedere squali di diversi diversi tipi dallo squalo bianco le verdesche sono molto più comuni addirittura anche noi lo chiamiamo pesce vacca lo squalo toro cioè non lo squalo toro quello che lo squalo di fondale diciamo i vecchi pescatori i professionisti lo prendevano con i palamidi di fondale nutrice no non è nutrice è il capopiatto forse si chiama squalo capopiatto si chiama capopiatto è quello senza pinna addirittura hanno fatto anche un documentario tempo fa proprio nello stretto hanno fatto delle immersioni nello stretto per documentare la presenza di questi squali e le hanno le hanno documentati anche a profondità abbastanza diciamo accessibili perché 20-30 metri di fondale nello stretto sono atti ciò si canna quindi nello stretto l'unica differenza c'è l'unico problema è le correnze perché lì bisogna andare nei momenti giusti bisogna conoscere bene il momento di cambio di corrente di calma di corrente che di solito si diciamo avviene nei quarti di luna che c'è meno corrente i quarti di luna sono quelli dove produce meno corrente bisogna stare attenti lì anche alle doppie correnti perché nello stretto in spiaggia ci sono dei ritorni di corrente che creano la doppia corrente cioè a largo vedi la corrente che va in una direzione e arriva nel senso opposto e quindi lì è veramente molto molto difficile riuscire a ad organizzare una battuta di pesca anche se sono presenti prede importanti però è difficile organizzare perché bisogna conoscere bene la dinamica delle correnti altrimenti non si riesce a pescare un'altra zona abbastanza diciamo accessibile a queste prede anche la nella zona tirrenica la zona vicino Barcellona Pozzo di Gotto ci sono delle spiagge che sono sempre spiagge profonde dove lì la presenza di ricciole di lecce di grosse dimensioni è abbastanza diciamo comune infatti ci sono dei pescatori che sono attrezzati proprio per quel tipo di pesca col col muggine muggine da un chilo portati a largo con il però ecco stranamente o stranamente probabilmente perché non sono attrezzati non ci sono state catture di squali ma io penso che sia un problema di rottura perché magari può sembrare un pesce che spacca il terminale però magari è lo squalo che ha tagliato ha tranciato perché pescando principalmente a ricciole a lecce o a grosse spigole non utilizzano terminali di acciaio ma utilizzano il nylon classico un fluorocarbon che agganciato dallo squalo diciamo fa una brutta fine in una frazione di secondo e quindi effettivamente è da provare è da provare soprattutto nel periodo estivo sì sì sono a periodo estivo 25,6 gradi la temperatura è la temperatura ideale per questo tipo di prede e la Sicilia io credo che in queste cose per via dei suoi fondali per via della sua anche della quantità della varietà di pesci che ha io credo sia una delle zone dove sia più possibile fare questo tipo di c'è anche un'altra un'altra zona che è molto diciamo adatta il promontorio di sabbia che c'è al Tindari dove c'è il santuario della Madonna Nera del Tindari sotto c'è un'area naturalistica che sono i laghetti di Marinello e c'è una lingua di sabbia che esce intorno ai 400 500 metri fuori è come un molo è un molo naturale lato destro che dà sul golfo interno è molto bassa come spiaggia ma il lato sinistro ti affacci in spiaggia e non vedi il fondo ti vedi il blu e anche lì è facile trovare ricciole sicuramente anche qualche squalo si può insidiare io qualche pescata lì di notte l'ho fatta e ogni tanto capita che magari qualche pesce si porta via tutta la lenza del mulinello perché magari uno non è attrezzato a quel tipo di cattura ho visto diverse volte anche un pesce in caccia a 2-3 metri d'arriva grosse ricciole lecce lampughe c'è lì proprio sembra di fare pescata altura bellissimo una cosa importante io per esempio mi ricordo da ragazzo non andavo ancora a pesca all'epoca c'è una zona vicina a Cagliari si chiama Ismortorius è un promontorio di rocce insomma dove l'acqua è abbastanza profonda da ragazzi noi andavamo spesso lì a fare i tuffi e più di una volta noi abbiamo visto i tonni ma proprio vicino al promontorio ma non una volta quindi vuol dire che in quella zona passano lì passano vicini perché poi è una cosa che andavamo spesso da ragazzi lì e noi estati ogni estate almeno una volta lo vedavamo quindi vuol dire che in quella zona c'è quel tipo di passaggio insomma e in quelle zone vale la pena fare quei tentativi Marco scusami c'è anche esempio nel golfo di Milazzo dove fino agli anni 40 50 erano presenti almeno tre o quattro tonnare abbastanza grosse e lì è un punto di diciamo di identificazione dei tonni infatti nel periodo di ottobre i vecchi pescatori andavano a traina a prendere i tonnetti e neanche 4-5 mesi fa mi è capitato mentre passeggiavo sul lungomare di vedere un branco di pesci che schizzava fuori dall'acqua e dietro un tonno di una trentina di chili che ha fatto un salto e è uscito praticamente tutto fuori dall'acqua quindi dove c'è il tonno è anche probabile che ci sia lo squalo certo ma poi voi vi siete mai chiesti perché le tonnare le mettono sempre negli stessi posti no? perché vuol dire che la tradizione in passato e l'esperienza ha insegnato che lì c'è quel tipo di passaggio dei tonni e non è che le tonnare sono un'invenzione moderna esistono da secoli quindi il momento in cui vengono posizionate sempre negli stessi posti e funzionano tutti gli anni vuol dire che in quel punto esiste quel tipo di passaggio cioè ci sono delle correnti o ci sono delle migrazioni o ci sono per un motivo o per l'altro lì passano quindi una volta che noi sappiamo dove passa questo tipo di prele poi diventa ripetitiva la cosa perché non è che passa oggi passa anche l'anno prossimo passa anche l'altro anno a corso sono sempre lì passano e si avvicinano arriva sempre negli stessi punti sempre negli stessi punti quindi per quello dico che la Cinzia sicuramente è costa noi li abbiamo sempre visti e tutti gli anni c'è sempre qualche verde che o sia arena o te la trovi proprio proprio tocca il fondo cioè la vedi a tre metri da terra dall'urbania asciuga proprio li abbiamo viste li ho viste io li hanno viste altri amici tutti gli anni quindi sono queste zone dove questo tipo di pesca può essere divertente provarla è un'esperienza nuova per molti però potrebbe essere un'esperienza da ridere insomma poi magari scopriamo che non c'è bisogno di andare tanto tanto in oceano abbiamo chiaramente una catena alimentare complessa qui da noi però magari ci sono questi punti dove diventa un bel gioco dove diventa veramente un bel gioco e secondo me può dare degli ultimi risultati però una cosa non si possono fare le cose a metà cioè quando si va caccia di grossi predatori bisogna essere attrezzati per i grossi predatori cioè devi usare tutto perfettamente rapportato 120 libri 120 libri l'amo il cavo il cavo può essere anche 400 libri non è importante però deve essere tutto rapportato e deve essere tutto in grado di poter togliere questo pesce fuori nel minor tempo possibile è inutile andare con mulinelli non tanti anche da 20 libri perché ti arriva un pesce da 70 kg ti svuota il mulinello anche 30 kg si porta a spasto frutto del filo e muore l'uomo dell'altro bisogna farlo a ragione veduta e poi bisogna fare solamente quello cioè non devi mettere due cani a orata una carne a squar non ha senso insomma è preferibile prendersi il sole con due cani messi a lì con due muggini da un chilo portate fuori i due canotti e aspettare anche tutto il giorno non è che per mangiare stiamo aspettando quei pesci insomma può essere un'esperienza nuova però può essere anche una nuova scoperta del nostro Mediterraneo che io sono convinto funzioni ma da sempre e questo lo dimostrava questo pescatore che c'era oristano che faceva solo quel tipo di pesca e lui prendeva toni prendeva abertesche prendeva ricciole e li prendeva ma ne prendeva in quantità tutti gli anni andava in questo posto e quello faceva andava con molinelli dalla traina e lui quello faceva e li prendeva fuori e li rilasciava pure è un tipo di pesca che da noi non viene non c'è tradizione però potrebbe essere potrebbe essere divertente fare quel tipo di pesca da terra potrebbe essere veramente divertente potrebbe essere una scoperta probabilmente che noi non ci aspettiamo tenendo presente una cosa molto importante noi abbiamo parlato degli squali gli squali hanno le ampolle di Lorenzini squali e razze però soprattutto gli squali hanno molto sviluppato e sono dei ricettori di cariche elettrostatiche allora quando noi andiamo a mettere un amo un cavo d'acciaio un crimpato sono metalli tutti diversi tra loro quindi l'amo è un tipo d'acciaio il crimp può essere in alluminio rame l'acciaio del cavo è ancora un altro questi metalli diversi ci sono degli scambi di cariche elettrostatiche che vanno isolate vanno isolate o col termorestringente con la guena termorestringente o addirittura con del semplice naso isolante l'importante è che i tipi diversi di metallo vengano isolati perché altrimenti mettono cariche elettrostatiche che vengono percepite dallo squalo a distanza di chilometri e vengono percepite non ci resta si avvicina quindi se vogliamo che questo tipo di pesca funzioni soprattutto con gli squali dobbiamo isolare tutti i tipi diversi di metallo tra loro che sono in genere amo, cavetto e crimp che sono tre tipi di metallo diverso quindi ci sono degli scambi elettrostatici che infastidiscono gli squali e ti tengono lontano dobbiamo proprio isolarle con delle isolate con della guena termorestringente questo vale anche per la girella se noi mettiamo la girella sopra abbiamo la girella di un tipo d'acciaio il cavo di un altro tipo d'acciaio e ci sono degli scambi di cariche elettrostatiche quindi questi fenomeni elettrostatici allontanano gli squali dobbiamo isolare pure la girella tutti i tipi di metallo diversi vanno isolati altrimenti noi ce lo dimentichiamo di cattolare gli squali qualche squalo scemmo può cascarci altrimenti è veramente difficile però può essere una cosa veramente carina è molto interessante ci sono tanti che non gliene frega niente invece ci sono tanti che per un po' mattimato del genere cioè io sono uno di quelli io metterei per canne a mare se fosse possibile in questi posti e ci rimarri tutti i giorni prendo il sole e mi lascio due bugie intanto quelli rimangono tutti i giorni non c'è problema se ne scatto bene però se arriva c'è da ridere se arriva c'è da ridere diventano diventano sono dei momenti di una emozione unica e ti rendi conto di quanto è forte uno di questi pesci insomma perché noi non ci rendiamo conto di quanto possono essere forti dimenticatevi canne a ripartizione bulinelli anche 20-30 litri siamo perdono già vi mette in difficoltà una ricciola con attrezzatore di quel tipo tu immaginate una bestia di una squadra di 70-80 kg che spinge per spingere senza poi immaginarsi una verdesca fa 70 all'ora un tonno pure cioè se poco a poco prendono velocità non lo fermi più ma che anzi fai a fermare non lo fermi più quella è una cosa che prende velocità ti sfota le mulinelle è finita e poi la salita in frizione tu esci in fumo dalla frizione ma non lo fermi sono esperienze molto belle e d'altronde questi pesci in acqua ci sono i mari ci sono per cui perché non provarci perché non provarci l'estate è il momento migliore per fare questo tipo di esperimenti io in Sicilia lo farei sicuro in Sardegna lo farò so anche dove so che cosa serve bisogna recuperare l'attrezzatura però sicuramente qualche tentativo lo farò poi non è detto che riesca non è detto che riesca è difficile bisogna conoscere veramente bene i posti per fare queste cose però il giorno che imbrochi una poi sai che in quel punto ci sono delle ottime possibilità insomma bisogna solamente a cercare il posto e un'altra cosa secondo me si può fare anche in Adriatico questo gioco secondo me si può fare molto bene in Adriatico l'Adriatico è ricco di tonni è ricco di squali è ricco anche se è basso però insomma i migliori pescatori di tonni sono quelli dell'Adriatico non dimentichiamcelo sarà un caso e in Liguria come è la situazione secondo te è possibile Antonio allora in Liguria in realtà qualche diciamo spot per poter fare questo tipo di esperienza esiste è già stato messo in alto adesso io conosco un luogo abbastanza frequentato che fanno pesca alle grosse lecce alle Amia ad Albissola verso Savona e c'è una zona in cui è riconosciuto insomma un luogo abbastanza frequentato da anni e dove sono state fatte diverse catture di grande di grande rilievo dalle mie parti sul Levante i pesci non mancano ci sono c'è una spiaggetta nel vicino diciamo si chiama Framura una spiaggetta che è una spiaggetta molto profonda in cui diverse sere con i miei amici siamo andati con i miei compagni di squadra siamo andati a fare un po' di pesca estiva appunto come stavi trattando mettendo muninelli un po' più grossi del normale tipo gli slosh dai ma sai quelli un po' il slosh 20 il slosh 30 di pen 980 tanto per fare un po' gli sciocchi provare un po' il pesce grosso e lì ecco lì abbiamo fatto diverse diverse strike eravamo un po' impreparati poi alla fine nel tempo poi qualcuno ha preso qualche grosso grongo sugli 8 kg e sembra che sia uscito adesso io non c'ero quando è stata anche una verdesca questa io devo ammettere che non sono un cultore della pesca del grosso grosso pesce ecco mi accontento però c'è menzione di questa ecco viene la mia zona poi è molto rocciosa va molto a strapiombo sul mare e questi tipi di pesci sono più che altro insidiati dalla pesca professionale ecco ci sono perché c'è moltissimi professionali e semi professionali diciamo quelli appassionati con le imbarcazioni quindi c'è spessissimo la traina di sotto costa viene effettuata nei periodi autunnali o preautunnali e comunque ricciole dentici vengono spesso catturati sì è poco c'è poco la cultura ecco non esiste il facile accesso a queste a questi luoghi perché purtroppo le nostre le nostre coste sono molto a strapiombo quindi sono pochi i luoghi a cui si può si può accedere per poter fare questo tipo di pesca o si va nelle spiagge che sono praticamente tra uno strapiombo e l'altro delle insenature di sabbia e allora lì si può trovare di tutto ma generalmente si fa la pesca che tutti quanti conosciamo oppure si ci si avventurano questi strapiombi e allora sì si può andare incontro a queste catture particolari che però richiedono anche una bella dose di temerarietà insomma bisogna essere prima che dei pescatori e degli scalatori quindi sì sono sono convinto cioè sono a conoscenza perché sono testimone dell'avvento di catture di certo rilievo la Liguria è una è una zona che si presta moltissimo ci sono molte molte rocce molte insennature che ospitano pesci oppure stimolano la curiosità di grossi pesci che si avvicinano alla costa e forse forse ci sarebbe la necessità di fare diciamo di ospitare una sera persone che hanno molta più dimestichezza confermo ecco sicuramente ti confermo l'esistenza di queste di questa realtà di questa ricerca del pesce di grossa taglia sì questo senz'altro poi vabbè la nostra la nostra zona diciamo costa nelle prime miglia è anche luogo di passaggio di tonni grossi grossi pesci insomma squali ce ne sono tantissimi tonni verdesche è stato avvistato anche qualche bianco qualche scalotto bianco qualche macco quindi siccome fino a pochi metri d'arriva ci sono discrete profondità non è detto che questi pesci riescano anche avvicinarsi quindi avendo un po' la curiosità e la volontà di fare un approccio a questo tipo di pesca secondo me ci si poteva togliere diverse soddisfazioni ripeto è difficilmente accessibile la costa perché chiunque ha provato ad approcciarsi alla costa del Levante Ligure sono strapiombi è tutto uno strapiomb e quindi qualcuno ci ha provato ci è riuscito ma è un'esperienza che fai una volta e la volta dopo ci ripensi a ripetere perché richiede una capacità un'atleticità particolare ecco diciamo questo una cosa importante bisogna stare attenti dalle rocce a fare sto gioco perché attenzione sono pesci che non è che detieni così se arriva un pesce di 100 kg ti apparesci inattico quindi è pericoloso anche per l'unità fisica farlo dalle rocce bisogna avere delle impostazioni ben stabili e solide dove potersi anche muovere insomma senza grossi problemi di cadere in acqua da stare attenti a queste cose un altro posto che mi viene in Sardegna è Portoliscia nella costa nord vicino all'isola dei Gabbiani a sinistra c'è questa spiaggia che è profondissima e lì effettivamente sono state effettuate catture di tonni catture di grosse ricciolte per la spiaggia Portoliscia impressionante è un porto è una spiaggia che è un porto è incredibile ci sono molte verdesche per esempio nel nord di Sardegna sono state avvistate vicinissime a riva anche in spiagge dove non te l'aspetti tipo Platamona per capirci ci avvicinano proprio le vedono tutte le estate quindi non è casuale non è una volta è un fenomeno ripetitivo può essere un'esperienza fantastica quella poi d'estate vai col costume ti porti l'esca fuori col gommoncino gommoncino da bambini e non è che serve chissà che cosa serve un qualcosa per portare un'esca a 200 metri da riva e può essere un'esperienza incredibile può essere un'esperienza servono mulinelli molto capienti perché se già porti un'esca a 200 metri da riva poi mettici in conto a 300-200 metri di fuga si fa in fretta svuotare un mulinello bisogna andare con attrezzature adatte allo scopo però secondo me quello che fanno in America come shark fishing noi abbiamo dei punti in Italia dove possiamo farlo d'estate tranquillamente d'altronde non dimentichiamoci che lo shark fishing per esempio in America si fa nei mesi estivi come da noi si potrebbe fare questo questi tentativi è uguale Texas inizia a giugno io dello shark fishing inizia a giugno quindi si potrebbero fare più o meno le stesse cose magari con risultati molto diversi chiaro però è sufficiente che ne arrivi uno insomma per per giustificare il tentativo io se me ne arrivasse uno a stagione sarei già contentissimo e giustificerebbe il tentativo insomma può essere una bellissima esperienza io credo che qualcuno di noi ci stia già iniziando a pensare seriamente e ci vuole provare perché Marco Besso per un posto dove le verdesche gli ruotano davanti quindi mi ha preso una piccolina in qualche mese proprio piccolina da poco ma è nato da poco ma se ci sono le verdesche piccole ci sono pure le mamme lì vicino quindi è probabile che facendo questi tentativi qualcosa vi riguarda è facilissimo un'altra zona è Porto Scuso non Porto Paglia però tutta la zona attorno a Porto Scuso dove ci sono del tonnare da Porto Paglia in giù e lì ci sono questi passaggi e sicuramente fare dei tentativi seri sbagliato non è a me è successo tanti anni fa perché noi lo facevamo giocando giocando sì ma giocando giocando ma aveva svoltato i 10.560 in bobina non sono riuscito a fermare niente però è Mugine cavo d'acciaio mi era successo i saluttas ma i saluttas mi era successo ma proprio non siamo riusciti a fare niente non sono riuscito però 4.98 non è che o con 10.000 all'epoca non c'era tutta questa capacità di filo però mi è arrivato a stare attrezzo mi ha svoltato il mullino e finito il filo cioè questa proprio per per incapacità mia insomma perché mai avremmo immaginato che poteva arrivare in qualsiasi dimensione e invece dai oggi dai domani arrivano chi è che sta andando via ciao buonanotte domani lavoro quindi sveglia presto grazie Luca Girometti quindi nella zona di Luca questo tipo di pesca si può fare secondo me beh sì ci sono tante postazioni interessanti qua tante scogliere con tanto fondo diciamo che tutta la zona Basso Sulcis è abbastanza interessante ma anche nell'alto sud ci sono una zona di diciamo cala domestica ci sono delle poste molto interessanti la zona di Capopecora non l'ho mai frequentata devo essere sincero però la zona qui in zona ci sono varie poste dove anche a tiro di canna in scogliera si riesce a fare una pesca abbastanza interessante soprattutto anche alla ricerca di altri pesci tipici dell'estate con la finale dell'estate di solito si va alla ricerca dei dentici perché comunque loro si avvicinano sempre dall'inizio di settembre forse anche a fine agosto però io non ho mai provato a fine agosto perché comunque c'è molto caldo è abbastanza impegnativo invece col settembre si riesce di più a affrontare diciamo una situazione di pesca di tutta diciamo di urna perché comunque andare in notturna risulta più complessa tutta la cosa comunque devi tenere conto anche della pericolosità delle scogliere che ci sono attrezzatura come hai detto tu deve essere sempre molto proporzionata le esche devono essere io di solito ho così imparato e così ho verificato che le esche devono essere sempre molto freschissime perché comunque i predatori si avvicinano a questo tipo di esca quando le vedono già un po' andante cioè potresti prenderla però è più difficile molto più difficile quindi diciamo che è molto bella mi è capitato di vedere attacchi anche di grossi pesci che comunque non sono usciti bisogna anche sistemare l'attrezzatura in modo da non perdercela perché comunque è capitato anche di vedere canne volare in mare picchetti spezzati cioè un po' di tutto guarda mi è capitato di vedere una volta che ero con degli amici un attacco non abbiamo visto che pesce era perché alla fine ha strappato tutto ma era un combattimento di almeno mezz'ora poi dopo era veramente impossibile e si è strappato tutto anche perché a seconda del pesce c'è il vizio di fare la rotazione e se ci sono scogli sotto tende ad avvolgersi come c'è le grosse ricciole fanno anche questo lavoro qua però come hai detto tu bisogna cercare di stancarlo il prima possibile perché sennò diventa tutto più complesso cioè si dà un po' di strada da un po' di spago risulta molto impegnativa la cosa e poi l'ideale comunque in certe postazioni è sempre andare in due uno per la sicurezza l'altro per perché chi ti incopa il pesce soprattutto anche attrezzi anche copi adeguati quindi copi abbastanza generosi a me è capitato raffio cioè serve se devi portarlo via altrimenti devi avere io dalle rocce io sono un po' perché ora è autentico allora te lo porti via ok ma se ti arriva uno squadro dalle rocce ragazzi quello liberi eh no ma la squadra dalle rocce che può capitare eh le tonnare sono vicine staccappata sono lì eh sì sì praticamente ogni tonnare arriva praticamente a terra perché eh è uno praticamente uno sbarramento con delle camere eh a seguire eh che eh dove poi viene incanalato nella nelle varie camere poi successivamente nella camera della morte dove si fanno le mari mattanze però comunque arrivano fino a terra ciò vuol dire che i pesci di perse arrivano a terra ma si possono insidere in tanti modi ho visto che molta gente li insidia con lo spinning pesante cioè lo chiamo così perché eh non so esattamente il nome mi sembra che siano short jig una cosa del genere eh che io non ho mai praticato perché comunque preferisco l'esca fresca quindi dai pesci pescati sul momento oppure eh seppie sardoni mugini eh però comunque devono sempre simulare il pesce o in difficoltà eh o deve essere vivo non c'è nulla da fare perché comunque quando arriva l'attacco non è come un pesce un gruffolatore come può essere un orato in spiaggia che si prende l'esca l'odora la sapore attira poco a poco lì e l'attacco è diretto è un po' io quando ho incominciato a capire praticamente eh cioè lui deve essere il più veloce possibile perché il pesce non lo deve vedere arrivare quindi è un po' sono come dei ninja questi sono hanno delle tattiche di attacco molto interessanti e poi comunque è molto bello vedere quando arrivano cioè sono delle esperienze forti cioè vedere certe attrezzature portate al limite è sempre molto bello ehm mai mi sogneria ad esempio di portare un un rotante in scogliera cioè preferisco sempre avere dei i vecchi 498 sono dei trattori oppure però lì vai a pesce mezzani se devi fare un gioco più pesante ti serve un 50 libri portante da 50 libri se no non hai filo indubbiamente e ti arriva ti arriva ti arriva non squaro se ti arriva perché quell'obiettivo secondo me è il top non è la via di mezzo per quello dico o fai una cosa o fai l'altra se però devi fare quel gioco ti serve un 50 libri e filo dentro perché ti arriva una base dei 100 chili ti portavi a 300 metri di filo la prima fuga e lo devi pure fermare quindi è un tipo di pesca a livello di big game come impegnativo come combattimento come però anziché avere la sede da combattimento c'hai i piedi per terra che è peggio quindi bisogna scegliersi bene la postazione bisogna perché noi siamo svantaggiati se ti arriva un tonno da terra il tonnetto lo togli fuori se ti arriva un tonno se fa 70 allora quello e non è che ci impievi molto a fare a sviluppare quella velocità e tu non lo fermerai mai quindi ti serve attrezzatura ti serve veramente attrezzatura dove poter forzare veramente no no indubbiamente poi le tecniche che io ho visto molto utilizzare comunque tecniche anche per allontanare un po' più l'esca ne ho visto fare c'è tante ne ho visto tecniche a chi usa il barchino radiocomandato a chi se le portava fuori a nuoto a chi cento modi perché comunque guadagnare anche se c'è molto a fondo guadagnare sul tavolato di roccia quei 10-15 metri in più vuol dire tanto vuol dire spesso se metti un pesce da 1-2 kg non lo puoi lanciare cioè non ci sono storie mi fanno ridere quelli che parlano di teleferica lì se tenevano un pesce di quelle dimensioni la teleferica poi te la fa mangiare perché te groviglia il filo ti casina tutto ma poi sai che cosa c'è questa teleferica la teleferica ha un difetto secondo me io l'ho provata che il pesce non scende mai verso il fondo rimane sempre alto e vicino sicuramente lo fa anche in un certo senso di protezione capito cioè rimane lì perché dice da qui non mi attaccano e invece come le aguglie le aguglie le prendi sotto sotto gli scogli è capitato di prenderle a galleggiante usarle però è sempre meglio innescare cioè quando puoi le lanci se poi il pesce come hai detto tu è molto generoso perché comunque è vero che puoi innescare pesci grossi ma si possono anche innescare seppie molto generose e comunque tenete presente che la pesca è sempre in proporzione alla pesce cioè quando tu se tu vuoi fare un tentativo per vedere se ci passa una verda esca tu devi dare esca cioè non è che andare in siti con una seppia o con una guglia se ci vuole ben altro perché una cosa è farla traina una cosa è farla da fermi traina stuzzicando della passione davanti al muso e non ti arriva poi metti invece da fermi deve essere deve essere esca cioè proprio la devi prendere per la gola e lanciare quelle dimensioni di esca non è semplice ma sì non è semplice primo perché non appoggi mai il piombo in terra quindi c'era sempre tutto in sospensione quindi più di fare una palombella non sarà e poi comunque ammetti perché poi il genere ti fa una tritta o bestia ci devi mettere il piombo ti fa una tritta o bestia bisogna portarle fuori c'è niente da qua le esca vanno portate fuori dove sappiamo che si verificano queste presenze bisogna portarle fuori perché non non ce la fai lanciando non non arrivi da nessuna parte devi aspettare che ti arrivi sotto i piedi ma devi intercettare il pascolo proprio va portata fuori le esca non ci sono storie per quello dico dalle rocce è semplice si può fare dalla spiaggia dalla spiaggia si può fare ci sono dei posti dove si avvicinano non lo sai o altrimenti delle zone basse dove comunque è agevole muoversi perché una volta che ti arrivi a un pesce dai non è facile stare fermi in equilibrio su una roccia no ma infatti le postazioni devono essere il più comodo possibile voglio dire devi starci in piedi devi poterti muovere se non puoi recuperare con tutto il corpo hai perso perché certe cose poi non è che recuperi con il murinello quando arrivano di recuperare tornando indietro con la canna ma devi forzare per forzare per quello ci vuole il murinello ci vuole il canna ci vuole il filo non puoi andare dico al 40 per capirci ma magari 40 si spezza dopo un secolo si spezza anche con un tic minimo minimo 60 minimo o 60 e allora puoi cominciare a fare un po' di prepotente altrimenti è perso però per starci almeno 4-500 metri di 60 devi avere 50 al libre lanciare con un 50 al libre te lo dimentichi non ho mai fatto il difficile cioè no 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 non lanci proprio fa così guarda secondo me l'ideale l'ideale è il barchino è il gommoncino il barchino d'estate si fa questo ma anche quelli radiocomandati io ne ho visto alcuni fatti ho visto alcuni molto funzionali preferisco il gommoncino perché vedo dove la moto l'esca capito anche certo il gommoncino guardo e vedo dove la sto mettendo quindi mi scelgo anche il posto diverso penso col barchino e boh si lascia l'oltre però non vedi dove l'esca mentre il gommoncino lo vedi dove l'esca è il kayak lo stesso eh col kayak certo col kayak si però vedi dove la stai mettendo l'esca se vedi una piazza una pozza di sabbia puoi decidere di lasciarlo lì però lo vedi sei sopra è un tipo di pesca che va fatto d'estate con la parte sportiva è il recupero non è tutto quello che concerne il lancio tu con quell'attrezzatura non lanci però poi dimentichi che con un 50 litri tu non lanci non c'è storia non esiste beh certo 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 di essere il campione del mondo tu non lanci con i 50 litri perché non riesci a lanciare non è possibile c'è uno spunto talmente lento un'inerzia talmente elevata che tu quel murine non l'hai fai 20 metri se ti fa toccare nei piedi beh sì certo ma è normale poi già come la vedi volando infatti con un 30 litri si può lanciare ma un 30 litri sino a 80 100 kg ce la si può fare se non ci sono voce in spiaggia metti il trecciato Marco eh il trecciato non è che ti aiuta però trecciato dai 50 litri è uno 0,25 non è elasticità allora in questo tipo di pesca ti serve l'elasticità ti aiuta perché tu stai tirando eh tirare con un filo che ti dà elasticità è un conto tirare con un trecciato tu li ha tu dove va l'amo lo apri ma poi ma poi secondo me il trecciato è un problema che se raschia sullo scoglio si spezza subito secondo me quello è il problema più grosso del trecciato comunque il trecciato andando a squali per esempio solo se hai un fisso ma perché non ci sta filo però è a rischio ma tu hai un combattimento diretto con una bestia che ti fa un mazzo tanto pensai di riuscirne avvantaggiata mentre invece col filo anche se è grosso hai quell'elasticità che ti permette di sopportare meglio una fuga di un certo tipo e so guarda il problema è che si serva anche un tonno di quelli perché ultimamente io sto prendendo che stanno uscendo tonni molto grossi no ma tonni tonni secondo la posta che scegli soprattutto dove abbiamo detto anche quelli arrivano sotto costa ma sarà a livello di 40-50 metri al massimo e si tremontano da 300 kg meglio che tagli allora un tonno da 300 kg con la barca lo devi seguire eh appunto c'è due tipi di muscolatura cioè la rossa e la bianca quando fai la prima fuga metti in funzione la muscolatura rossa che è la più errorata c'è una potenza stratosferica tu non lo fermi mai poi una volta che metti in moto la muscolatura bianca comincia a andare ma sempre a quella velocità ti porta a spesso chilometri quindi non lo fermi con la barca li vai dietro e li vai dietro e da terra quelle cose te le dimentichi però pesci anche da 70 kg 80 kg queste cose possono arrivare eh sono dei bei combattimenti eh cioè ti rendi conto di quanto è forte uno di questi attrezzi ti rendi conto di quanto si è debole tu soprattutto e non lo fermi no certo ti porta via la canna dalle mani ti fa camminare con i piedi così sulla sabbia però guarda io sono esperienze che ogni anno vado a farle perché comunque danno grandi soddisfazioni non è cioè c'è sempre quello spirito di avventura molto 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 bello molto bello perché comunque stai sempre cercando postazioni molto selvagge anche la scelta della posta è molto importante cioè basta uno scoglio sbagliato e non batti chiodo una cosa è fare il rock fishing una cosa è fare il big game per capirci il rock fishing al confronto è un gioco per quanto sia impegnativo ma se vai a catturare ricciole squali e qualche tornetto lì la musica cambia completamente lì è veramente una guerra cioè non è non è come pescare un dencio che dice il dencio poi lo fermi con un 50 al libre lo fermi e lo fai volare fuori dall'acqua con un 50 al libre proprio non c'è storia allora ti arrivano di questi pesci con un 50 al libre e tu non lo fermi e tu vedi che questo tira e tu come cerchi di fermarlo quello ti porta in avanti non è che ti lascia di fermo è un divertimento è un'emozione incredibile beh come si può fare anche danno tralasciando i discorsi del rock fishing che sì è bello però tutto sommato è un gioco abbastanza semplice poi c'è andando a insidiare i grossi predatori che ci sono negli spot giusti e lì ti fanno vedere i soci ma non come lì 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 ci vuole attrezzatura attrezzatura da traina possibilmente ma vabbè la testatura già sappiamo dove andrà a prenderla è là sempre perché se ti riesci devi avere almeno la possibilità di giocartela guarda guarda un attimo qua dietro mi faccio passare due canne già per quello già rimediamo subito non è un problema però però come hai detto sì il rock fishing è una è un gioco a confronto del big game però è una grande scuola capito perché già tu ti imposti già mentalmente andare a catturare pesci di una certa taglia capito non è che stai sempre lì ti aspetti qualcosa che arrivi di grosso capito a differenza invece di andare in spiaggia che quando tu sei in spiaggia vai con una cioè ti aspetti anche il pesce grosso ma vai con una mentalità di di condizione una cosa un po' diversa capito c'è delle varianti è sempre un'altra cosa è sempre un'altra disciplina però non puoi neanche fare una via di mezzo o fai l'uno o fai l'altro perché non puoi andare a rock fishing e pescare squali per capirci cioè rock fishing è una cosa che ha esche più ami meno cioè non hai il problema di usare cavetti da 200 kg per esempio non è questo tipo di problema invece quando vai a fare quell'altro gioco devi usare attrezzature violente quindi se t'arriva t'arriva male siccome ci sono se vincino non si arriva prima o poi quello che ha fame lo becchi eh no può capitare certo certo se cominci a vedere la canna che comincia prima scrizione poco a poco poco a poco poi sempre un po' di tipo poi accelera sempre di più allora lì prendi la canna in mano tu ferri e la canna si riabbassa e continua a tirare e tu tiri e quella continua a tirare e tu non riesci a soffermare la canna cioè lì la musica cambia completamente sono esperienze che si possono fare esperienze che si possono fare io credo che possano dare delle grandi soddisfazioni Marco è uno di quelli che ci sta per provare Marco adesso ci prova e secondo me ci riesce pure e dipende dove va dipende dove va lui c'ha un posto dove sa che le verdesche comunque arriva si avvicinano tant'è che ne ha preso una pipolina l'altro giorno non l'hai visto il video anche da noi se come hai detto tu però lì a Teulada c'era la verdesca a un metro dagli scoglie sulla sabbia ci sono questi posti dove si avvicinano però noi le abbiamo sempre viste a costa tutta l'estate tutta l'estate si presentava dopo pranzo la vedevi ma lì in mezzo bagnato un paio di metri d'arriva addirittura in sabbia alta l'acqua era talmente bassa che toccava poi prendeva e se ne riandava ma parliamo anche di verdesca di due metri e mezzo grosse quindi ci sono questi posti però per fare quel tipo di pesca bisogna avere quella forma mentale ti devi dimenticare che ci sono altri pesci e devi insegnare quello eh sì è sempre così cioè con ogni tipo di pesca al suo devi essere mirato è un tipo di pesca sportivo e noi siamo pescatori sportivi quindi non è che abbiamo se non prendiamo l'orata domani non mangiamo se ne va pescato facciamo con l'insieme della sportività e questo è un tipo di pesca dove dieci volte non prendi niente ma è sufficiente prenderne una che ti conferma sia il posto sia la tecnica sia tutto perché non è che ogni volta che vai ne prendi una eh no vabbè certo che no c'ha c'ha le sono pesci che arrivano una volta ogni dieci uscita cioè a meno che non si fa come le spigole no vai con dieci cane da traire le piazze in spiavi le porti tutte fuori allora è facile che in un giorno ogni giorno ogni volta che vai è una tarda di via però hai un palazzo non è più molto sportivo come d'altro neanche in america quando fanno sto gioco c'hanno 5-6 carne in mare non ne hanno una hanno 5-6 carne tutti a ventaglio una barra una più vicina una più lontana e uno ti arriva ma te ne arriva uno massimo due durante una battuta di pesca sono battute di un giorno fanno però usano 5-6 carne da traire da un sciarpecino da quindi anche lì nonostante ce ne siano non è che ne prendi a a vagoni te ne arriva metti uno ogni battuta di pesca battute di un giorno qualche volta due però intanto stai mettendo molte canne molta esca in mare a diverse distanze perché non fanno con la stessa mentalità questo capito ma certo certo perché non fanno con quella mentalità io sono convinto che se noi lo facciamo con quella mentalità ci togliamo le nostre soddisfazioni ma ne sono straconvinto di questo perché ci sono poi ho letto da poco qualcuno diceva ce ne sono sempre di più no ci sono sempre stati solo che prima non c'erano i social e quindi non si sapeva oggi invece come tutti quanti c'erano lo smartphone e sembra che ce ne siano di più ma ci sono sempre stati questo tipo di pesce da noi non li abbiamo mai insidiati ecco questo si chi li ha insidiati però li ha anche presi è un tipo di pesca che d'estate può essere molto divertente franco a voi da voi avete esperienze di questo tipo ma da noi abbiamo un'intenzione dove abbiamo spiagge basse per un lungo tratto queste cose sono possibili nel centro del canale bisognerebbe spostarsi verso Lampedusa su quella zona lì e lì altro che ci sono lì c'è il mondo di queste cose tutti i tipi di squali bianchi verdesche è facile trovare nel porto dell'Ampia Lusa spesso entrano non è difficile entrano al semito di pescherecci navi mentre nel sud Sicilia è una zona dove ci sono molte spiagge basse e ci sono mi è capitato di vedere rotte di pascolo di delfini a 5-600 metri quindi c'è una zona dove questi pesci passano però non si avvicinano tanto un po' distante sì un po' distante qualche cosa entra spesso entrano nei porti si sente nei porti tipo sciacca ricata anche a porto di peia d'oclè spesso è successo che sono entrate nelle verdesche addirittura una volta anche uno scuolo bianco mi pare a sciacca che è successo i pesci grossi che avvicinano sono le lecce le lecce di 14 20 kg questi c'è chi insidia diciamo sistematicamente a spinning e anche a fondo sì sì le lecce sì vi dico anche un'altra cosa per esempio ogni tanto al porto di Cagliari per esempio vanno a prendere le lecciole e ne prendono due o tre al giorno le prendono sempre lì ogni tanto capitava qualche verdesca capitava perché in genere in Corsica per esempio c'è una spiaggia nella costa est in alto dove hanno sempre fatto gli squali da terra squali grigi per di più 15 kg non verdesche ho visto parecchi squali grigi e li hanno sempre fatti pescando da terra è una spiaggia bassa tra l'altro per esempio Padre Island in Texas che è il regno dello shark fishing non è una spiaggia con foglare cioè devi uscire con Kayak dai due trecento metri almeno perché è una spiaggia bassa Padre Island è una spiaggia bassa non dimentichiamoci che è nata per degli uragani Padre Island quindi è un apporto di sabbia ed è una spiaggia bassa eppure il regno dello shark fishing e loro nella spiaggia bassa li insidiano però e li prendono regolarmente però vanno lì con Kayak a differenza della Florida dove invece li catturano anche a Lancio perché però sono spiagge più profonde invece Padre Island è proprio bassa come spiaggia non lo so io e Giorgi no ma siamo lì è proprio bassa tu vedi le foto con frangine da 300 metri e gli portano le esche sì sicuramente ci sono ma sono distanti bisogna portare le esche 400-500 metri perché al porto entrano quindi sicuramente sicuramente avranno una rotta se uno le vuole insidiare ci vogliono appunto rotanti da 50 libere canne da tonni eccetera eccetera con quella stessa trova si potrebbe provare ti vuole quella attrezzatura soprattutto se lo spiaggia è bassa potete portare fuori 400 metri di filo ne devi avere una barchetta ma non dagli scogli perché dagli scogli è troppo pericoloso dagli scogli è pericoloso se non assolutamente se non hai mai provato quel tipo di combattimento non hai idea è proprio pericoloso è proprio pericoloso noi ogni tanto se ne vedono filmati di shellfish per renderti un po' di dentro che combattimento è sugli scogli se rompi il filo sei appeso alla cama se rompi il filo cadi all'indietro ti sfasci ti fai male ti fai male ti fai male sicurezza però dalla spiaggia da Simone si ci sono certe spiagge dove si può provare la terra c'è una spiaggia dove avevo visto circa 500 metri c'era una rotta di delfini e quel giorno abbiamo fatto una bellissima pescata con ombrile spigole quindi c'era erano in caccia questi delfini si vedevano da lontano e guarda caso c'era l'incastro famoso tutto si incastrava e quel giorno in tutte le spiagge ha pescato più che ha pescato qualcosa è stata una di quelle giornate particolari è coinciso con questa rotta di questi del segno a me è successo di vedere addirittura le pinne mareggiata oltre i frangenti a piscina e a piscina ero con Sandro Meloni e si vedeva questa pinna fuori proprio oltre il frangente a 120 o 50 metri d'arriva c'era mare eppure dietro si vedeva questa attrezza che andava e veniva che una grossa amica quindi anche lì si avvicina ci sono ci sono questi posti dove queste cose succedono e lì è il caso soprattutto dove poi sono tornati si è sicuro che succedono perché c'è il passaggio per forza obbligato qualcosa un'autostrada è bello è un tipo di pesca che non fa nessuno e che però meriterebbe di se cominciare tenderebbe avere qualche qualche amico che ha l'attrezzatura per tondi e quindi perché quella è l'attrezzatura che è più facile trovare protanti 50 libri le calme adeguate se parte tanto lo senti si sento da lontano quando parte parlo un po' lo fischia lo fischia come l'estate sono esperimenti da fare proprio come li fanno in amico paro paro senza andare a perdere molto tempo inventare niente di nuovo con quelle attrezzature con quei sistemi e secondo me comincio a vedere foto diverse comunque anche in Florida io e gli amici mi raccontavano che gli squali entravano in acqua per 10-15 metri e gli squali gli arrivavano a zero di canna pescavano così con la galla in mano pericoloso pericoloso però pescavano così ci avvicinavano tantissimo infatti una delle delle spiagge più pericolose al mondo in Florida in Florida comunque proprio della Florida sì sì Bahamas le Bahamas lo stesso anche Bahamas non siano dei fondali molto profondi però abbiamo il squale lì però anche lì quando quando vanno a fare shark fishing hanno 5-6 canne tutte parate fuori portate fuori con il kayak è un tipo di pesce che possiamo provare noi e secondo me non abbiamo la stessa continuità però secondo me in un anno le saltano fuori anche la questione di attitudine noi sono più tradizione da noi non esiste no non e non sarebbe male fare le prove perché secondo me si può dedicare quando dicevi prima in Adriatico ma tu ce l'hai perché io ho due zone in mente dove fare un tentativo cioè o in Puglia e pure il golfo quello di Manfredonia quella è interessante la situazione e se no al Coner però non mi viene un'altra cosa se no forse devi salire su a confine con la Croazia ma là cambia poco tutto devi sapere dove si avvicinano il Conero secondo me è un posto lì lo sai da chi fa traina chi fa traina te lo può dire perché in Adriatico è nata a Pesaro la traina il big game quindi sono zone dove il big game è molto diffuso a Pesaro sono i migliori trainisti d'Italia quindi lì ti possono dire dove si avvicina e dove si avvicinano di più arriva è il punto dove lo puoi fare però tenendo per esempio quando esci 300-400 metri anche in Adriatico ci sono dei posti dove comunque c'è fondale abbastanza per esserci quel tipo di poi lo sai perché chi fa traina lo sa chi fa traina lo sa come passano studiano quello quindi se c'è una zona vicina arriva dove si può fare la rotta ideale sono 300-400 metri perché 300-400 metri te li fai con un caia con un buon bolcino parcheggi l'est te ne torni in spiaggia insomma però poi devi avere 50-80 libri di mulinello in modo da avere altri 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 almeno altri 400 metri di filo dentro il mezzo io sul conero io sul conero marco sento dire qualcosa però tutto quello che ho sentito era largo a 300 metri non ho mai sentito l'anno scorso è andato sul giornale un caso sporadico di uno squalo bianco che è stato avvistato 300 metri dalla riva di Fano prima era stato avvistato a Rimini a largo il giorno dopo a Fano che è proprio a sud di Pesaro che era arrivato 300 metri da riva in una spiaggia più profonda rispetto a tutte le altre che si chiama la Sassonia proprio perché c'è i sassi ed era arrivato 300 metri uno si stava calando da un gommone con le bombole ha visto sta sagoma che la coda spuntava dietro il gommone e la testa spuntava davanti il gommone però è stato una volta che l'ho sentito invece a Tunni tra Ancona e Rimini vanno tutti tutti a Traina sento dire però dalle 11 miglia in poi vanno ci sono delle tratte specifiche che passano sempre tutti gli anni io con un amico che ha un gommoncino di 6 metri con 50 cavalli ci divertivamo a Settembre a Lampughe e Palamiti che sono carine a un milio e mezzo già passano tutta roba di un chile e mezzo due tre massimo a squali 300 metri ti giuro non ho mai sentito dire niente no ma infatti ci sono sicuramente dei posti ma bisogna sapere dove sono perché poi è costante cioè passano sempre lì comunque sta cosa dello squalo bianco Simo io l'ho sentita non solo l'anno scorso ma pure mi sa l'anno prima alcune alcune sono state fake news alcune l'anno scorso ti garantisco che era vera però alcune sono state fake per esempio a Baratti anche in Toscana Toscana spesso e volentieri ci arrivano però al di là dello squalo bianco che è uno squalo fuori portata perché già uno squalo bianco di tre metri pesa oltre 400 kg perché è tozzo è grosso è pesante e quello non è che lo addomestichi così ti arriva la terza del genere ciao noi dobbiamo stare più entro certi limiti anche perché noi non possiamo seguirle con la barca noi siamo a terra siamo fermi quello va via e tu non puoi fare nulla se non cercare di fermarlo quindi non è però squali grigi verdesche qualche so questi squali mezzani diciamo attorno ai 100 kg o 100 kg secondo me la Brando Borghi secondo me si possono si possono provare poi Brando ciao Brando come è state finito di lavorare gioia sono arrivato ora guarda sono cotto come un befanino guerra proprio guerra stavo parlando oggi della possibilità di fare dello shark fishing nel Mediterraneo te pensa che io vedi un coglione una ventina di anni fa al chilometro 28 con una montatura d'estate da squali alle marze non ci credo lo guardai zona di orate mormore lo guardai mi fece no perché ho letto degli articoli so che ci sono gli squali qua ma non a 100 metri dalla riva noi allora sto facendo prima noi in Sardegna abbiamo dei posti dove si avvicinano abbiamo anche le tonnare abbiamo cioè ci sono dei posti dove si avvicinano ma questo dappertutto sicuramente sono cose ripetitive sicuramente tutti gli anni si avvicinano sempre nei stessi posti sicuramente non si parla meno di 300 metri d'arriva un po' come fanno in oceano insomma però d'estate con un bello 80 al libre dove ti porti l'esca fuori col kayak dove secondo me in mezzo a tante qualcosa si può fare però bisogna farlo con le stesse tecniche che si fanno in oceano un paro valo bisogna inventare di nuovo tanto che non dobbiamo inventare nulla e tutto il genere è inventato e a mio parere in Sardegna io almeno 3-4 posti li conosco vorrebbe essere interessante come nuova apertura di non sarebbe male di attività di pesca quello sì anche in Sicilia anche lo stretto di Messina mi stavo parlato prima c'era Enzo lì ma lì è straordinario secondo me però secondo me ci sono un po' dappertutto questi posti dove ci sono questi passaggi di questi grossi predatori vicino a riva per tanti motivi correnti pesce fa oraggio migrazione di sardine motivi possono essere tanti però sono cose ripetitive sempre negli stessi posti sempre negli stessi posti io li ho visti da terra costa rea carassincias e tutti gli anni ci sono notizie dove sono queste verde che si avvicinano a rio tutti gli anni scusate un attimo c'è una telefonata io se ce la faccio quest'estate non sono apprezzato però riesco ad aggiustare non so qualcuno lo conosco e io se ce la faccio qualche tentativo ve lo faccio poi facendo sto gioco non ti arriva una scuola ti arriva una ricciola ti arriva un letterato ti arriva un tonnetto ti arriva perché dal giorno pesci grossi vengono insidiare pesci grossi brando borghi dove si chi è che è uscito e voi ti vengo a trovare io con l'attrezzatura da di da drifting notizie scienziate da me allora dove c'è più fondale non ci arrivi dalla spiaggia il problema è solo dalla dalla barca perché noi abbiamo avuto noi abbiamo le poste dove usciamo a drifting e c'è capitato di incontrare le verdesche il rarissimo colpe una volta in due anni c'è c'è stata una balenotter azzurra in costiera eppure l'abbiamo incrociata quindi sì noi andiamo anche proprio a toni a prede grosse quindi sappiamo cosa vuol dire però la cosa brutta c'è un unico posto dove qualcosa tipo ricciola eccetera le hanno fatte ma ci sono le le rocce e ci va giusto spinning e temerario è veramente brutto come posto non so come facciano a pescare dalla sola perché io l'ho visto da mare e mi è impressionato non hai appoggi comodi lì se agganci un pesce che comincia a essere importante te la vedi brutta 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 ma pericoloso devi stare attenti è pericoloso no io a quel punto preferisco sempre voi dalla barca non sono tantissimi posti no ma anche perché fondamentalmente a lui dove c'è la spiaggia non c'è subito tanto fondale ce ne sarebbe una sola nelle zone del sale puntano però avvistamenti del genere mai fatti eh no devono essere perché quelli ci deve essere l'avvistamento perché già l'avvistamento è un segnale se non c'è il segnale è tosta perché si avvicinano solo in pochi punti e in una spiaggia per esempio si avvicinano solo in quel tratto non si avvicinano da poco poiché questo è un posto molto battuto per i palestra e le orate lì ci si va ci si va spesso in inverno è mareggiata si fanno spigole saraghi bellissimi però avvistamenti del genere no mai no no ci devono essere perché se non ci sono non c'è quel tipo di passaggio ecco sì una spiaggia di 4 km è solo in quel punto in due spiagge lunghe sono solo in quei punti ben precisi non è in tutta la spiaggia eppure ci sono delle zone più profonde perché Capoferrato pur essendo sempre la stessa spiaggia è più profondo di Costa Re è molto più profondo però no tu li becchi a Costa Re non a Capoferrato tutti gli avvistamenti sono in altezza tra Piscina Re e Montenai cioè in quella zona e basta capito e in ogni spiaggia è una zona abbastanza limitata abbastanza ristretta e questo non ho capito perché però sicuramente c'è un motivo sì ne sono convinta pure io perché ci deve essere anche un passaggio magari di pesce foraggio di cui loro si nutrono particolare o correnti o correnti che poi portano appresso tutto quel tipo o entrambe sì o correnti ma io io invito chi ne ha voglia chi ha l'attrezzatura si arma lì si prende il sole si porta fuori due canne però bisogna conoscere i posti dove ci sono questi dove c'è questo tipo di vicinanza io ne conosco diversi e probabilmente adesso mi finisco di sistemare in casa però sicuramente qualche giornata al mare così me la trascorro mi recupero l'attrezzatura da qualche amico che fa traina perché serve attrezzatura e via mi recupero due bugini e vado lì con due cefali da chilo e si prova l'estate può essere divertente può essere un esperimento che apre una strada probabilmente inaspettata e speriamo speriamo secondo me si può fare si può provare noi più che più che dare il là non possiamo fare possiamo poi noi proviamo per i fatti nostri se poi arrivano se ne parta se no pazienza però intanto stiamo andando dove è permesso farlo si può sicuramente provare sicuramente si può provare la cosa è certa a Oristano so dove devo andare quello un po' come sicuro so che sono stati sempre fatti quindi lì vai quasi a colpo sicuro li hanno sempre fatti quindi tutti gli anni ma anche decine falliamo pescando in mezzo ai toni alle ricciole arrivavano ste attrezzi e questi tra l'altro li vedevano male perché non se ne facevano niente li impegnavano a combattimento lungo e lungo perdevano tempo e basta poi dello squaro non se ne facevano nulla perdevano tempo va bene ragazzi chiudiamo la registrazione e vediamo un attimino di parlare invece di altre cose nostre grazie a tutti alla prossima ciao